Alterati dai fumi dell'alcol, due uomini di 30 e 26 anni hanno iniziato a importunare clienti di un locale di via Orto dei Limoni a Catania e invitati a uscire dal proprietario hanno reagito violentemente provocando anche dei danni all'esercizio commerciale. Andato a vuoto il tentativo di allontanamento, il proprietario del locale ha chiesto aiuto ai carabinieri telefonando al numero unico delle emergenze. Sul posto sono giunti i militari del nucleo radiomobile ai quali l'uomo ha riferito che i due giovani si erano da poco allontanati a bordo di una Nissan Micra. Scattate le ricerche, l'auto con a bordo il trentenne e il 26enne è stata rintracciata in piazza Roma. La centrale operativa ha quindi fatto convergere altre pattuglie di carabinieri che hanno effettivamente dato manforte ai colleghi. Il 26enne, di origini straniere, privo di documento di identità e in quel momento già sottoposto agli arresti domiciliari, si è violentemente scagliato contro i militari e per contenere la resistenza del giovane, gli uomini dell'arma hanno dovuto ricorrere allo spray urticante al peperoncino. Il 26enne è quindi stato arrestato in flagranza per evasione, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto disponendo altresì che l'uomo fosse ricondotto ai domiciliari.